Mondiali Antirazzisti è un grosso contenitore di tutti i valori che durante l'annata sportiva molte nostre società sul territorio portano avanti. Quindi è un momento dove ci ritroviamo e valorizziamo i principi che caratterizzano tutte le attività del territorio e quindi tutte le problematiche legate all'antirazzismo, alla multiculturalità, allo stare insieme, a quella di condividere ovviamente principi cari a questa associazione facendolo tutti insieme in questo grosso contenitore che è il seguito naturale di quello che succedeva a Bosco Albergati negli scorsi anni. Quest'anno è stato mantenuto l'impegno di Bosco Albergati e in più abbiamo pensato di ripromuovere un'iniziativa ex novo a Rilascio.